Effettuavano prelievi molto consistenti di carburante con carte di credito e banco maturbati in una stazione di servizio di Vicenza, che sapevano essere sprovvista di telecamere di sorveglianza, utilizzando la colonina self-service dopo l'orario di chiusura. Sono stati gli elementi che fin dalla primavera scorsa hanno condotto i carabinieri del comando provinciale di Vicenza fino a tre gruppi, due dei quali legati a famiglie stanziali rom ed uno ad un gruppo servo-croato, individuati grazie a quel punto all'installazione di videosistemi nell'area di servizio interessata. Sette le persone arrestate, quasi tutte con precedenti perreati contro il patrimonio, una delle quali già in carcere a Padova, con l'accusa di ricettazione ed utilizzo fraudolento di carte Bancomat. Un centinaio di militari coinvolti nell'attività, denominata non a caso self-service, che ha comportato una trentina di perquisizioni effettuate soprattutto nei campi nomadi della città verica. Le carte erano state per lo più sottratte a persone anziane.